Da giugno di quest'anno la parola d'ordine per gli investimenti nei mercati emergenti è diventata selezione. Cos'è cambiato in questa economia? Il 2013 è stato caratterizzato da due fasi per quanto riguarda gli investimenti finanziari ed anche gli investimenti nei paesi emergenti. Sino al maggio di quest'anno gli investitori continuavano ad investire nei paesi emergenti alla ricerca del rendimento che era offerto da questa categoria di investimenti. Nella seconda parte dell'anno, dal mese di maggio in poi, dopo l'annuncio che la Federal Reserve americana avrebbe a tendere ridotto la propria politica monetaria non convenzionale con il cosiddetto typering, i mercati hanno vissuto una fase di fortissima selezione. Si è andati un po' a discriminare tra due grandi categorie, i paesi emergenti cosiddetti buoni e quelli meno buoni. Di questa seconda categoria fanno parte sicuramente quei paesi che avevano ed hanno ancora un forte disavanzo commerciale. La conseguenza è stata soprattutto nella tipologia di investimenti legati alle valute domestiche. Infatti vi è stata una fase di svalutazione di queste divise. Questo sia perché vi è stata una fuga di capitale da questi paesi per rientrare verso gli Stati Uniti d'America piuttosto che per investimenti alternativi. Ed in secondo luogo perché la svalutazione domestica legata a queste economie è comunque una parte dell'aggiustamento che deve essere fatto per rientrare dal disavanzo commerciale. Quindi sicuramente il 2013 è stato caratterizzato da una fase di forte selezione per paesi, la cosiddetta country allocation, anche nei paesi emergenti. Che tipo di reazione vi aspettate dagli emergenti non appena aver rannunciato il tanto discusso tapering e com'è approcciarsi ad essi da oggi in avanti? Sicuramente il tapering della Banca Centrale Americana sarà un tema molto importante per i primi mesi del 2014. Quindi gli effetti sui mercati finanziari si vedranno nella prima parte del prossimo anno. Quindi avremo un coinvolgimento anche dei mercati emergenti. Di nuovo la selezione per paese, quindi la country allocation, potrebbe essere uno dei temi principali per il prossimo anno. Sappiamo però, dopo la forte correzione già vista nel 2013 sui mercati emergenti, che i rendimenti a scadenza proposti in questo momento dal comparto emergenti sono ben superiori rispetto a quello che era circa un anno fa. Ed in secondo luogo la dinamica dei flussi di investimento degli investitori internazionali ha già visto la fuoriuscita dagli investimenti nei paesi emergenti di buona parte di quelli che erano gli investitori a breve termine, coloro i quali molto probabilmente non avevano ben compreso il profilo rischio-rendimento nel comparto, se vogliamo, dell'asset class paese emergenti. Va fatta però un'importante distinzione, se vogliamo una riserva. Sappiamo che alcuni paesi che dovrebbero fare delle riforme necessarie necessarie per ribilanciare il loro forte disavanzo commerciale. Solo a titolo di esempio pensiamo al Brasile, alla Turchia ed al Sudafrica. Questi paesi nel prossimo anno, nel 2014, hanno un ciclo elettorale molto importante per cui le riforme che questi paesi dovrebbero portare potrebbero essere in qualche modo ritardate a causa del ciclo elettorale. Alla luce di quanto detto, come sono posizionati i vostri fondi? I nostri fondi obbligazionari emergenti hanno una forte driver di performance che viene guidato dalla allocazione geografica. Noi investiamo principalmente nei paesi del centro ed est Europa perché ipotizziamo che vi sia ancora un elevato extra-rendimento nelle obbligazioni emesse da questi paesi dovuto ancora oggi alla crisi del debito sovane europeo che ha coinvolto, anche se in maniera più marginale, i paesi del centro ed est Europa. A tendere nel nostro scenario principale abbiamo il ritorno del naturale fluire dei capitali verso questi paesi e questo dovrebbe consentire un repricing di tutte queste obbligazioni e quindi una fase di apprezzamento per questi paesi. Un secondo driver di performance che noi reputiamo molto importante è la country allocation. in particolare di nuovo in centro ed est Europa investiamo in Ungheria e in Polonia per i motivi che abbiamo appena citato e investiamo anche in Russia perché questo paese ha saputo accumulare un'ingente risorsa monetaria attraverso la banca centrale quindi delle valutazioni legate ai fondamentali rispetto a quelle che sono invece il loro debito soprattutto il debito governativo. Infine investiamo nel mondo, in Messico per quanto riguarda il Latin America e per quanto riguarda l'Asia investiamo ancora nelle Filippine che continuiamo a privilegiare. Di nuovo il 2014 potrebbe essere un anno ancora molto importante per quanto riguarda la selezione per paese e questi sono i principali cosiddetti co-holding nei nostri portafogli obbligazionari emergenti.